il testamento conoscevo quel giovanottone che si chiamava rené de bourneval era di piacevole compagnia per quanto un po triste pareva deluso di tutto molto scettico uno scetticismo preciso e tagliente capace di smontare con una parola le ipocrisie mondane ripeteva spesso non esistono persone oneste o almeno esistono solo se paragonate coi farabutti aveva due fratelli i signori de courcell coi quali non si vedeva mai credevo che fossero d'altro letto dato che avevano nomi differenti più volte mi avevano detto che in quella famiglia era successa una strana storia senza mai darmene particolari quell'uomo mi era simpatico e presto diventammo amici una sera a casa sua dopo che avevamo cenato da soli gli chiesi per caso siete nato dal primo o dal secondo matrimonio di vostra madre lo vede impallidire appena poi arrossira e restò in silenzio per qualche istante chiaramente confuso poi sorrisse in quel suo modo malinconico e amabile e disse mio caro amico se non vi annoio vorrei darvi particolari assai curiosi sulla mia origine vi conosco come una persona intelligente per cui credo che la nostra amicizia non ne soffrirà e se mai lo dovesse non mi importerebbe più di avervi come amico mia madre la signora de courcell era una povera donna timida sposata da suo marito per il patrimonio che possedeva tutta la sua vita fu un martirio di animo amorevole fu maltrattata in continuazione da colui che avrebbe dovuto essere mio padre uno di quei tangheri che sono chiamati i gentiluomini di campagna dopo un mese di matrimonio si mise a vivere con una serva inoltre ebbe come amanti le mogli e le figlie dei suoi contadini ciò che non gli impedì di avere due figli da mia madre dovrebbero essere tre contando anche me mia madre non diceva nulla viveva in quella casa sempre in fermento come quei topolini che guizzano sotto i mobili dimenticata silenziosa angosciata guardava la gente coi suoi occhi inquieti e limpidi sempre in movimento gli occhi di una persona smarrita continuamente in preda alla paura e tuttavia era bellissima biondissima ad un biondo cinereo e timido come se i capelli si fossero un po scoloriti per i continui timori fra gli amici del signor de coursel che venivano sempre al castello c'era un ex ufficiale di cavalleria vedovo uomo che ci faceva rispettare affettuoso e violento capace delle più energiche decisioni il signor de bourneval di cui porto il nome vigoroso magro con due baffoni neri gli somigliò molto era un uomo colto e che non pensava affatto come quelli del suo ceto la sua bisnonna era stata amica di jean jacques rousseau e si sarebbe detto che egli avesse ereditato qualcosa da quel vincolo durante nata sapeva a memoria il contratto sociale la nuova eloisa e tutti quei libri filosofeggianti che hanno preparato alla lontana il futuro stravolgimento delle nostre antiche usanze dei nostri pregiudizi delle leggi sorpassate della nostra stupida morale amò mia madre sembra e ne fu riamato il loro legame fu talmente segreto che nessuno sospettò di nulla la povera donna trascurata e triste dovette attaccarsi disperatamente a lui e frequentandolo prendere da lui il modo di pensare le teorie del libero sentimento le audace dell'amore indipendente ma essendo tanto timida non si azzardò a parlare mai a voce alta represse compresse e chiuse tutto quanto nel suo cuore che mai si aprì i miei due fratelli erano duri con lei come il loro padre non le mostrarono mai affetto e abituati a vedere che in casa non contava nulla la trattavano quasi come una domestica soltanto io fui il figlio chiamò davvero e che il amo morì avevo allora 18 anni devo aggiungere perché possiate capire quel che seguirà che esisteva un decreto di separazione di beni a favore di mia madre la quale aveva mantenuto grazie agli artifici della legge e all'intelligente dedizione di un notaio il diritto di far testamento per conto suo si avvisarono che presso quel notaio era depositato un testamento e fummo invitati ad assistere alla lettura me ne ricordo come se fosse ieri fu una scena grandiosa drammatica burlesca sorprendente provocata dalla ribellione postuma della defunta dal suo grido di libertà dalla rivendicazione dal fondo della tomba di quella martire oppressa in vita dal nostro modo di agire dai nostri costumi la quale gettava dalla bara chiusa una disperata invocazione all'indipendenza colui che credeva di essere mio padre uno macione sanguigno che faceva pensare a un macellaio e i miei fratelli due robusti giovanotti di 20 e 22 anni aspettavano seduti tranquillamente il signor de bourneval che era stato invitato a presentarsi entrò e si mise dietro di me era pallidissimo si mordichiava spesso i baffi ora un po grigi senza dubbio immaginava quel che stava per accadere il notaio chiuse la porta a doppia mandata e cominciò la lettura dopo aver aperto davanti a noi la busta sigillata con la un vecchio foglio lo spiegò lo baciò a lungo e continuò ecco il testamento della mia diletta madre io sottoscritta a un chatre in genevieve matilde de croalù legittima sposa di jean leopold joseph goldrand de courcell sana di corpo e di mente esprimo qui le mie ultime volontà chiedo perdona dio innanzitutto e poi al mio caro figlio rené di quello che sto per fare credo che il mio ragazzo abbia abbastanza cuore per capirmi e perdonarmi ho sofferto per tutta la vita sono stata sposata per interesse e disprezzata trascurata oppressa ingannata continuamente da mio marito lo perdono ma non gli devo nulla i miei figli più grandi non mi hanno mai voluto bene e a malapena mi hanno trattato come madre in vita ho fatto per loro quel che dovevo fare dopo la mia morte a loro non devo più nulla i vincoli di sangue non possono esistere senza l'affetto continuo e sacro di ogni giorno un figlio ingrato è meno di un estraneo è colpevole perché non ha il diritto di mostrarsi indifferente verso sua madre ho sempre tremato davanti agli uomini davanti alle loro leggi inique alle loro usanze disumane ai loro infami pregiudizi davanti a dio non ho più timore morta respingo da me la vergognosa ipocrisia ho il coraggio di dire ciò che penso confessare e firmare il segreto del mio cuore lascio quindi in custodia tutta la parte del mio patrimonio di cui la legge mi consente di disporre al mio amante di letto pierre germer simon de bourneval lascio quindi in custodia tutta la parte del mio patrimonio di cui la legge mi consente di disporre al mio amante di letto pierre germer simon de bourneval affinché in seguito vada al nostro caro figlio rené questa disposizione è inoltre formulata a parte e in modo più preciso in un atto notarile davanti al supremo giudice che mi ascolta affermo che avrei maledetto il cielo e la vita se non avesse avuto l'amore profondo devoto tenero incrollabile del mio amante e se tra le sue braccia non avessi capito che il creatore ha fatto le creature perché si amino si sostengano si consolino e insieme piangano nelle ore dell'amarezza i miei due figli maggiori hanno per padre il signor de courcell soltanto rené deve la vita al signor de bourneval prego il padrone degli uomini e dei loro destini di porre al di sopra dei pregiudizi sociali il padre e il figlio di fare sì che si amino fino alla morte e amino me nella tomba questo è il mio ultimo pensiero e la mia ultima volontà matilde de cruelux il signor de courcell scattò in piedi e gridò questo è il testamento di una patria allora il signor de bourneval fece un passo e pronunciò con voce forte con voce tagliente io simon de bourneval dichiaro che questo scritto contiene la pura verità sono pronto a sostenerlo davanti a chiunque e anche a dimostrarlo con le lettere in mio possesso allora il signor de courcell andò verso di lui credetti che stessero per azzuffarsi credetti che stessero per azzuffarsi si guardavano fremendo tutti e due alti uno grosso l'altro magro il marito di mia madre scandiva il bettando siete un miserabile l'altro replicò con lo stesso tono vigoroso e netto ci ritroveremo altrove signore da molto tempo vi avrai già schiaffeggiato e provocato se non mi fosse stata a cuore innanzitutto finché è vissuta la tranquillità della povera donna che avete fatto tanto soffrire poi si rivolse a me siete mio figlio volete venire con me non ho il diritto di portarvi via ma lo prendo se siete d'accordo gli strinsi la mano senza rispondere uscimmo insieme certo ero fuori di me appena due giorni dopo il signor de bourneval uccideva in duello il signor de courcell i miei fratelli per timore di un terribile scandalo tacquero ho ceduto loro ed essi hanno accettato la metà del patrimonio lasciato da mia madre ho preso il nome del mio vero padre rinunciando a quello che mi attribuiva la legge e che non era il mio il signor de bourneval è morto da cinque anni non me ne sono ancora consolato si alzò fece qualche passo e ponendosi di fronte a me vi dico che il testamento di mia madre è una delle cose più belle più leali e più grandi che una donna possa fare non siete d'accordo gli tesi le mani sì certo amico mio grazie grazie